ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale e ben ritrovati qui a casa magenta sto realizzando il video col cellulare perché purtroppo mi sono dimenticato a casa l'action cam spero che comunque si veda bene si senta bene allora cosa sto combinando oggi ha piovuto pioviginato un po ieri ha piovuto tutto il giorno quindi non sono potuto andare avanti diciamo con la messa a terra e messa in opera dei degli archi della serra in compenso oggi ho iniziato a realizzare quello che sarà l'impianto di irrigazione di tutta la parte dell'orto vi spiego un pochino cosa intenzione di fare allora da questo rubinetto che verrà eliminato qui al posto di questo verrà messa una deviazione a t una che andrà al lavandino per poter utilizzare questo lavandino e l'altra appunto andrà a alimentare il l'impianto di irrigazione dell'orto che ho realizzato come vedete acquistando un tubo anzi questo lo avevo già in dotazione un tubo pieda 25 mm che ho inserito dentro ad una guaina isolante che a sua volta nel tratto che passa lungo la o che passa per largo la stradina di accesso qui ho infilato dentro in queste che una volta erano delle grondaie sono due pezzi sono giuntate qui questo pezzo qui va poi sotto questo pezzettino di giardinetto e sbuca fuori da là da qui in poi utilizzerò queste vecchie grondaie un pezzo di questa vecchia grondaia per proteggere ulteriormente il tubo e in fondo più o meno là dove arriva adesso vi faccio vedere meglio dove arriva la guaina isolante farò una fontanella che adesso vi spiego meglio eccoci allora siamo nel nell'orto qui viene giù il tubo pie dentro a questo tubo in in lamiera zincata che era una volta appunto una grondaia da lì in poi lo coprirò con questo pezzo di grondaia qui fino ad arrivare qui dove c'è questo mucchio qua scaverò e metterò come terminale diciamo questo quest'altro pezzo di grondaia all'interno del quale farò passare appunto il tubo qui ci verrà un gomito che ho già ordinato che verrà messo in questo punto qui in modo che l'acqua poi il tubo lo possa portare in su verso la colonna della 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 fontana che sarà appunto questa qui chiaramente qui dovrò prendere un altro pezzo di questa guaina in modo da farla entrare dentro a quella a quel tubo lì a quella a quella grondaia lì che poi fungerà appunto da colonnina per la per la fontana adesso sinceramente non so se utilizzare solo quella l'idea finale era quella di metterci una rete intorno e riempire il tutto di sassi adesso vediamo in modo da avere una fontanella fatta un pochino simpatica e sotto poi ci metterò un secchio una catinella in alluminio qualcosa vediamo se trovo qualcosa di usato io qui ci avrei qualcosa ma è anche fin troppo grande forse quindi dovrò cercarmi qualcosa di un pochino più piccolo comunque questo diciamo che è l'impianto da questa fontanella a questa fontanella verrà collegato poi un deviatore a quattro vie che andrà alimentare appunto le varie parti dell'orto quindi questa prima parte qui dove c'è l'alloro questi rosmarini eccetera poi quest'altra parte qui che probabilmente resterà incolta perché resterà passaggio poi ci sarà qui un'area molto vasta che adesso è diciamo il vivaio per i melograni che vi avevo già fatto vedere e quindi qui ci saranno poi ci sarà un impianto a goccia con vari pettini a pettine che andrà a irrigare questo questa parte qua qui invece qua sopra farò probabilmente delle esse o una esse che partirà da qui andrà lungo la farà tutto il giro torna indietro poi ritorna un po devo vedere insomma quello poi lo studierò e un'altra un altro braccio diciamo del deviatore a quattro vie che sarà lassù verrà messo probabilmente anche qui interrato magari tirerò via tutta questa ciarpame qui per il momento e lo metterò qui sotto e andrà ad alimentare appunto l'impianto di irrigazione nebulizzato della della serra che vedete insomma è a buon punto abbiamo fatto un bel lavoretto insieme a danilo l'altro giorno e adesso è qui così purtroppo mi mancano le giunture per i tubi che vanno a collegare gli archi quelli interni lì però ho trovato qualcosa che forse funziona tra l'altro mi sono accorto adesso che ne dovevo prendere ben tre e non solo due perché ce n'è una la una due e tre sì quindi dovrò prenderne un'altra vabbè altri due eurini ok quindi questa è un po la situazione adesso qui stavo praticamente fissando ho fissato diciamo questo tubo qui con un tondino piegato a dovere e battuto giù nel terreno quindi questo adesso è bello saldo non scappa più da nessuna parte questo poi appunto andrà protetto con la con quella grondaia qui e quindi andrà molto più in profondità sicuramente e la stessa cosa l'ho fatta là dietro adesso vi faccio vedere ecco allora qui praticamente il tubo esce dal dal tubo in lamiera e fa questo questa curva abbastanza abbastanza lieve e qui ci ho messo anche qui questo gancio questo picchetto diciamo piantato pensallo giù nel terreno ecco che la taffi deve controllare va bene direi di sì e da lì poi parte e va su adesso qui l'idea anche qui era di coprire questo tubo e inserirlo dentro a questa a questo pezzo di grondaia qui tanto per non avere quel tubaccio lì così a vista però devo ancora capire un attimo come fare se farlo eccetera anche perché il tubo questo qui nero in pie abbastanza rigido ovviamente e quindi fagli fare delle curve molto strette diventa praticamente impossibile l'unico pezzo dove potrei immaginare di farlo è l'ultimo qui però vediamo oppure trovare il sistema un po per piegare questa grondaia e farla farla correre appunto lungo il tubo cioè sagomare la grondaia la copertura sulle curvature diciamo che riesco a dare al tubo piuttosto che viceversa e quello potrebbe essere una soluzione l'altra soluzione potrebbe essere quella di far arrivare il tubo in un po in diagonale e mettere anche questo così in diagonale e allora la cosa si risolverebbe abbastanza perché dopo la basta tagliare un po fare un po uno svaso qui nella grondaia e il tubo poi uscirebbe senza problemi devo vedere un attimino come fare come fare queste finiture finezze cose di questo tipo c'è anche da tenere presente che io prima o poi la casetta qui la vorrei effettivamente dipingere ridipingere di un colore un po più forte appunto magenta e invece che questo rosa così antico sta bene però credo che starebbe ancora meglio se fosse un attimino più un colore un attimino più carico comunque niente adesso qui andrò a ricoprire e a finire questo tratto qui che praticamente adesso non dovrò più muovere perché è a posto e quindi ci metto giù un po di il suo ghiaino la sua terra e andrò a completare il lavoro quindi vi farò vedere il lavoro poi finito com'è qui questo pezzo qua ecco allora lavoro finito ho interrato tutto il tubo e anche qui sotto ci ho messo una badilata che adesso sembra cemento ma è praticamente una sabbiolina d'argilla che poi dovrebbe diventare sul nero grigio antracite una volta che si asciuga e adesso a questa consistenza che sembra cemento comunque adesso qui il tubo è tutto interrato la cosa che dovrò pensare eventualmente di fare è di aumentare un attimino lo strato di ghiaino che ho messo qua sopra in modo da avere un attimino più di protezione sopra appunto al tubo che passa qui sotto comunque direi che adesso è venuto abbastanza bene sì magari lì anche quel muretto che delimita questo giardinetto magari lo rifaccio e lì a protezione ci ho messo quella pietra però qui ho già intenzione come avevo detto una volta di togliere questa rete che impiccia solo e di fare poi qualcosa di un pochino più simpatico ancora non so esattamente cosa ma sicuramente questa rete la tiro via anche perché è tutta storta e brutta dentro nelle piante sarà anche difficilissimo da tirare via perché qui praticamente è dietro la pianta e qui tutto in un momento me la ritrovo davanti quindi la pianta c'è cresciuta in mezzo per cui anche questa pianta qui dovrò tagliarla a pezzi e vedere un po' come riuscire a sistemarla qui poi ci sono tutte queste siepi qui che sono belle ma come vedete sono un pochino si sono un pochino seccate all'interno e non avendo mai tanta manutenzione quindi qui bisognerà capire che cosa che cosa andare a fare anche perché qua non c'è nulla questo alberone qui questa caccia qui enorme sarà da tirare giù e poi qui una volta c'era un muretto a secco che andava lungo questa area qui e dovrò vedere se riuscirò in qualche modo a rifarlo e a sistemarlo in modo da avere qualcosa di un po' più decente comunque il lavoretto qui è venuto bene e adesso vediamo intanto che ore sono e poi credo che per oggi metto via gli attrezzi e finisco qui metto via un po' quei sassi li metto un attimo da parte in modo da poter fare poi altri altri muretti questi li metterò là nelle gabbie e basta per oggi direi che ho lavoricchiato abbastanza bene per questo video sull'impianto di irrigazione è tutto ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao